mamma si voglio giocare a roblo hai cambiato il codice del wifi prima si stiamo al tuo armadio io l'ho già fatto cosa l'hai fatto senza che io te l'avessi chiesto si wow è fantastico secondo me dovresti farlo più spesso si ma qual è il codice del wifi pulisci prima il tuo armadio tutte minuscole senza spazi mamma mi fai pulire l'armadio per niente the following day mamma voglio giocare a roblox però il codice del wifi non funziona pulisci prima la tua camera ok che cosa stai facendo gioco a roblox cosa si ho saputo il codice del wifi e prima pulisci la tua camera non ci cascherò di nuovo mamma cluetti il video finisce qua ovviamente vi ringrazio tantissimo per i 10.000 iscritti vi voglio un sacco bene ragazzi e mi raccomando dobbiamo ancora più crescere crescere e riuscire ragazzi e poi soprattutto se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina ovviamente io vi ringrazio tutti vi mando un bacione e vi saluto ragazzi un saluto speciale per gioia e sil e noi ci vediamo alla prossima con una nuovissima vettura ciao